Riff Folks, siamo la Corte di Lunas, band folk rock, dal Friuli Venezia Giulia. A febbraio abbiamo pubblicato il nostro quinto lavoro, Tales from the Brave Lands, un album interamente dedicato alle leggende delle nostre terre. Oggi siamo qui per annunciarvi una grande novità a corte. Siamo su Patreon! Quest'ultimo periodo che stiamo vivendo, che inizialmente si presentava complicato per la nostra musica, si è rivelato in realtà un catalizzatore incredibile di energie e proposte. Ci ha permesso di ridisegnare le nostre priorità e di dare vita a nuovi progetti. Abbiamo realizzato nuovi video, ideato la campagna social Stay Brave e abbiamo lanciato le chiacchiere a corte, dove ogni settimana ospitiamo in diretta Facebook musicisti della scena a forche italiana. Ora abbiamo voluto fare il passo ulteriore, dare spazio e slancio alla nostra creatività attraverso Patreon. Patreon è una piattaforma virtuale dove potete trovare un sacco di contenuti esclusivi, come ad esempio un feed fatto apposta per Patreon, accordi, spartiti e basi delle nostre canzoni, video, tutorial e playthrough, gadget in edizione limitata, lo streaming delle nostre prove, lezioni online con noi di strumento e voce, video collegamenti con la band. Grazie al vostro supporto potremo creare nuova musica, nuovi video, nuovi contenuti, in un circolo virtuoso di energie, che ci permetterà di continuare a crescere e a costruire. Se siete curiosi, trovate il link in descrizione. La programmazione online sui nostri social non verrà per questo ridotta, non dovete preoccuparvi. Continueremo ad essere presenti e attivi, come sempre, sulle nostre pagine. Grazie a tutti voi per il supporto e il calore di cui ci avete sommersi in quest'ultimo periodo. Ma soprattutto, Stay brave, folks!